Finare di rigore, verso Ivanov, tiro e rete di Cislenko. Tiro di Ivanov, tocco indietro verso Cislenko, libero e rete di Cislenko. Ed ecco la fine della partita. È terminata per 2-0 in favore dei nostri avversari sovietici e in gran parte è colpa nostra. Ricordiamoci che perdevamo già per 1-0 al momento dell'espulsione di Pascutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.